La Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili e per quanto invece riguarda le realtà espositive si sono mantenute allo stesso livello nonostante l'anno non propriamente facile. Tantissime le riconferme, tra cui appunto Nova Monte dove mi trovo ora a parlare, che è main sponsor della manifestazione e grazie al quale abbiamo in questi anni portato avanti un tema importantissimo che è quello della raccolta differenziata. Quest'anno è ancora più importante visto che a Milano, città dove ci troviamo, è iniziata la raccolta dell'umido. Fa la cosa giusta è sostanzialmente una sorta di campionaria della sostenibilità, quindi 11 sezioni tematiche che vanno dall'alimentazione biologica, al turismo, alla finanza etica, cosmesi, commercio eco, insomma tutti gli ambiti della vita quotidiana in cui un cittadino può compiere delle scelte effettivamente sostenibili. La responsabilità sociale della manifestazione si concretizza attraverso una serie di azioni che noi suggeriamo e caldeggiamo sia i visitatori che gli espositori, quindi i punti di ristoro possono utilizzare solamente materiale biodegradabile compostabile. La raccolta differenziata, come dicevo, è tenuta in grandissima considerazione. Le isole del riciclo sono presidiate da valorosi volontari che consigliano e suggeriscono al visitatore dove gettare i rifiuti. I materiali che utilizziamo sono, anche se è difficilissimo fare una fiera sostenibile dal punto di vista della logistica e dell'allestimento, quanto più riciclabili, riutilizzabili più volte. Oggi è il secondo giorno, ieri è andata molto bene, ci auguriamo e siamo abbastanza convinti che anche quest'anno sarà un grande successo. Ovviamente il ringraziamento più grande va sia ai soggetti nuovi che magari da pochissimo tempo hanno iniziato a seguirci, sia ai partner storici, tra cui appunto Novamont, che oramai da anni ci sostiene grazie al quale siamo qua a parlarne ancora.